coach alla vigilia hai detto che non bisognava sottovalutare questa partita e la squadra ti ha preso la lettera è sempre stata davanti a padova e ha strappato tre punti importanti una vittoria netta che il risultato è quello che insomma conta di più in questo momento punti importanti la squadra concentrata abbiamo giocato bene possiamo fare meglio questo è donovan scherzo ma questo è bello no dal punto di vista del gioco siamo riusciti di battere molto bene con tanti ace e tante recensioni negativi delle parti loro questo ci ha permesso di avere opportunità di tanti contrattacchi potremmo fare meglio a muro siamo riusciti di tenere gabi garcia e gardini non porro lui anche nelle situazioni di palla scontata è riuscito di di passare sempre noi possiamo fare meglio di sicuro però oggi complimenti a tutti per l'organizzazione di gioco e risultato ottenuto guardando un po i numeri della sfida si legge un buon rendimento in cambio palla in contrattacco in ricezione quindi comunque tre fondamentali importante oserei dire fondamentali perdona la ripetizione però che che permettono comunque alla squadra di mettere in discesa partite comunque complicate come queste i fondamentali importanti sono la recensione e la battuta noi oggi li abbiamo avuti buoni tutti i due quindi questo ci ha permesso la recensione a giocare in cambio palla invece la battuta di avere le possibilità di di contrattacco possiamo giocare e dobbiamo giocare meglio in cambio palla mi interessano i percentuali ancora più alti in contrattacco mi sicuro stiamo lavorando da partita in partita voglio vedere una squadra diversa perché per me alla fine importante vincere alla base di cose è tutta un'altra cosa perché le partite sono diverse i nostri avversari sono sempre diversi per oggi va bene così ecco non sapevamo la pausa cosa avrebbe dato è servita appunto per mettere ancora più benzina per recuperare ancora di più le energie e appunto in campo si è visto non era una pausa lunghissima ha servito a recuperare i giocatori a lavorare bene è servito nel modo positivo oggi prima partita di che età da titolare davanti al nostro pubblico ecco ha risposto presente che età recuperato con tanta voglia di lavorare di testa sempre concentrato in allenamento in crescita oggi ha giocato molto bene per il futuro mia spero ancora meglio di lui